Buongiorno, mi chiamo Joseph, ho 21 anni e quest'estate ho fatto uno stage presso Europa Scuola d'Italiano come tutor nel campo estivo giugno. In questo video parlerò di tre soggetti importanti per chi vorrebbe fare uno stage così e anche per chi ci pensa. La prima cosa è la varietà di attività che si può fare a Firenze. Allora quest'estate c'è stata una grande varietà. Queste attività includono lezioni di cucina, gite in barca, il nuoto, botteghe artistiche, un quiz sulla cultura italiana, fiorentina, una maratona fotografica, tour nei musei e nel centro storico di Firenze. Con questa varietà le attività sono molto piaciute. Per organizzare tutto abbiamo usato vari modi di comunicazione, tra cui le mail, le chiamate, le visite e le riunioni con i ristoranti e con le imprese per meglio capire le cose che ci avrebbero potuto offrire. Il periodo ideale per organizzare tutte le attività della settimana è da una a due settimane prima della data prevista dell'attività, perché questo permette più tempo per organizzarsi e così nel futuro riorganizzare l'attività sarà facile. I consigli dei tutor passati ci hanno aiutato anche, particolarmente all'inizio, quando dovevamo imparare a conoscere questo tipo di lavoro e gli impegni importanti. Un altro punto è che abbiamo avuto giorni specifici per certe attività. Ad esempio, mercoledì ci piaceva molto andare in piscina, questo era molto popolare con i ragazzi. Un'altra cosa di cui voglio parlare è il mio livello di italiano. Allora, sono arrivato, essendo al livello B2, ho raggiunto C1 nella grammatica. Il mio italiano parlato è anche abbastanza corrente, grazie al lavoro che ho fatto a Europass in classe la mattina e anche durante il lavoro, parlando con i ristoranti, con i miei colleghi. Questa esperienza è stata molto formativa e mi ha dato molto visione in questo tipo di lavoro. In generale ho migliorato le mie competenze professionali. Non vedo l'ora di tornare all'università ricordando tutto quello che ho imparato a Europass. Grazie per aver guardato questo video e spero che vi abbia aiutato.